IL MERLO Buongiorno a tutti da Merlovideo Questo cane non sopporta più questo bambino che piange Gli scienziati non sanno ancora per quale motivo, ma questo polpo piace proprio andare a fare delle passeggiate Sono una mamma di stagione Che la farà a passarci Ce la farà a passarci Questo cerbiatto adora mangiare la frutta. Merry Christmas Nigel, you want a donut? Help yourself. Nice. Ciao piccolo Yoda. E' il suo primo viaggio in auto. Siamo arrivati alla fine del video. A presto e buona giornata a tutti.